Il turismo è probabilmente l'unica attività economica che richiede per il suo sviluppo che funzioni tutta una società. Deve funzionare il trasporto, deve funzionare l'accoglienza, gli alberghi, deve funzionare la viabilità, deve funzionare la sanità. Ci deve essere un ambiente riqualificato, ci deve essere sicurezza. E per discutere con il governatore Campano di questi temi, in particolare con un focus sullo sviluppo dell'area vesuviana e della penisola sorrentina, è stato organizzato un convegno dal gruppo consigliare regionale De Luca Presidente e dall'Associazione Apertamente a Tre Case. L'occasione buona per fare un punto sulle problematiche che affliggono i territori e definire un piano per stabilire le possibili linee d'azione da mettere in campo per migliorare il potenziale turistico dell'area vesuviana, partendo in particolare dall'offerta di percorsi sul Vesuvio. Come sottolinea il presidente del gruppo consigliare De Luca Presidente, Carmine De Pascale. È stato interessante parlare dell'opportunità di fare rete con i cittadini, con le associazioni, con la politica e con le istituzioni. Abbiamo parlato di problematiche legate al turismo, della necessità di incrementare i flussi turistici e di adottare tutte le forme possibili per avere un sistema di turismo integrato, di incentivarlo con una programmazione dei fondi strutturali comunitari europei e poi di procedere con l'ambiente. Obiettivo principale ora è quello di risollevare le sorti del Parco del Vesuvio per anni bistrattato e scelto come area discarica, come evidenzia ai nostri microfoni il presidente dell'ente parco Agostino Casillo. È chiaro che il problema delle discariche e delle istituzioni abusive è ancora un problema presente sul territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. Io credo che, benché il Parco Nazionale non abbia competenza in merito a rimozione dei rifiuti e gestione dei rifiuti stessi, tuttavia con un buon concerto tra le varie istituzioni, dalle istituzioni competenti, insieme ai sindaci, insieme alla regione Campania, possiamo avviare un percorso almeno per la bonifica delle aree e per la mitigazione ancora degli impatti ambientali dei siti di discarica. Grazie a tutti.